Ieri era il cinquantesimo anniversario del primo trapianto di rene in Italia. Questo vuol dire che la mattina del 4 maggio di 50 anni fa, qui a Roma, si risvegliava la prima italiana con tre reni. Come tre. Questa è stata la mia reazione alla notizia che in un trapianto di rene, il rene nuovo viene messo qua davanti, lasciando al loro posto gli altri due malmessi. Perché in fondo non importa se rene è là dietro, imboscato o qua davanti in prima fila. Quello che importa è che svolga bene il suo lavoro. I trapianti sono procedure mediche raffinate, ma hanno due limitazioni. La scarsità di organi disponibili e il risetto, dovuto al nostro sistema immunitario che come un branco di squali affamati attacca e distrugge qualsiasi cosa sia estranea, sia pure un raro organo nuovo di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Per superare questi limiti, una delle strategie più promettenti è l'impiego di cellule staminali pluripotenti. Queste cellule hanno la capacità di rigenerarsi all'infinito e di trasformarsi in qualsiasi cellule del nostro corpo. In laboratorio ne produciamo quante ne vogliamo e possiamo addestrarle a svolgere ogni tipo di lavoro. Cioè quasi. Nel senso, il rene, per esempio, è un organo estremamente complicato che stiamo ancora imparando a riprodurre in laboratorio. Tuttavia, possiamo già stupirvi con qualcosa di un pochino più semplice. Il pancreas. Il pancreas produce insulina e regola la concentrazione di zucchero nel sangue. Quando questa sua funzione viene compromessa, la malattia che ne deriva si chiama diabete di tipo 1. Negli ultimi anni siamo diventati bravissimi ad addestrare le cellule staminali pluripotenti a diventare cellule del pancreas. Così non dovremo più aver bisogno di aspettare che sia un pancreas nuovo, ma potremo trapiantare queste cellule staminali pluripotenti addestrate ai pazienti diabetici per poterli curare. Ah già, però ci sono gli squali. Se avete mai visto un documentario sugli squali, avrete notato come i sub, quando si immergono, lo fanno all'interno di una bella gabbia resistente. Possiamo fare una cosa simile anche con le staminali. Se le incapsuliamo all'interno di un involucro protettivo, loro potranno svolgere il loro lavoro tranquillamente, senza correre grossi pericoli, dal sistema immunitario. E se ripensate al rene di prima, non è necessario fare un'operazione chirurgica complicata per sostituire il pancreas malato. Basterà trapiantarle sotto la pelle a contatto con i vasi sanguigni e loro svolgeranno il loro lavoro ugualmente bene. E quindi immaginate che se già oggi potreste incontrare qualcuno che gira per il mondo con tre reni, e se pensate che il pancreas e il rene spesso vengono trapiantati insieme, non è così improbabile che tra un paio d'anni potreste ritrovarvi davanti la stessa persona che guardandovi potrà cominciare a grattarsi il braccio e dire, scusa ma mi prude il pancreas. Grazie.